A partire dal lunedì 4 maggio, con l'entrata in vigore del nuovo decreto del governo che riaprirà molte aziende chiuse per l'epidemia di covid, l'offerta ferroviaria tornerà al 55 per cento del servizio ordinario con circa 100 treni in più. Per quanto riguarda gli autobus, dall'attuale programmazione si tornerà all'85 per cento di quella ordinaria, decurtata quindi dai soli servizi scolastici. Saranno confermate anche tutte le corsi aggiunte in questo periodo di emergenza. La regione toscana sta così predisponendo un'ordinanza in stretta sintonia con la conferenza delle regioni e il ministero per dare all'utenza il miglior servizio possibile, soprattutto considerando che per rispettare le misure di sicurezza anticontagio sarà necessario comunque ridurre il numero di passeggeri che potranno salire contemporaneamente sui mezzi pubblici. Sarà necessario allora avere pazienza da parte di chi andrà a prendere questi mezzi, andare dotati di mascherine, possibilmente anche di guanti per la tutela della salute propria e degli altri e poi cercheremo anche di dare una risposta qualora fosse necessaria con delle corse bis e con l'utilizzo in via straordinaria di mezzi che solitamente non sono destinati al trasporto pubblico locale come NCC, taxi oppure bus turistici. L'ordinanza in preparazione punterà anche a garantire la gratuità per il trasporto a bordo di biciclette e monopattini per favorire il ricorso alla mobilità sostenibile anche integrata con i mezzi pubblici. Resta attivo fino al mese di settembre anche il bonus che la regione riconosce agli abbonati dei treni per l'acquisto di bici pieghevoli.